Qualche giorno fa al Comune di Ischia è stata istituita una commissione, un nucleo per la comunicazione. Perché? L'intendimento dell'amministrazione è cercare di aprire alla società civile, quindi alle energie che il nostro Paese riesce a esprimere in vari campi. L'intenzione dell'amministrazione è riuscire a coinvolgere queste energie. Il progetto che noi ci siamo prefissati è quello di individuare una serie di commissioni di consultazione e di proposta che possa pungolare e supportare l'azione quotidiana dell'amministrazione. Si è iniziata da questa comunicazione e del marketing territoriale, coinvolgendo dei giovani che hanno delle competenze in relazione a quelli che sono i loro campi di azione che sono compatibili con l'oggetto di questa commissione e continueremo anche su altre tematiche, come la cultura, la gestione dei tributi locali e altri ancora. Dalle opposizioni sono levate numerose critiche per queste nomine, soprattutto perché si dice che in questo momento l'amministrazione dovrebbe pensare a risolvere i problemi piuttosto che istituire commissioni. E' giusto che i cittadini sappiano che sono delle commissioni dove i componenti partecipano gratuitamente, quindi non ci saranno degli oneri a carico dell'amministrazione e della cittadinanza. La obiezione che viene posta dalla minoranza è oggettivamente alle gambe corte, perché le istituzioni di queste commissioni proprio ci servono per interpretare meglio quelle che sono le problematiche che nella quotidianità i cittadini riscontrano e riuscire a tradurre poi in atti amministrativi delle soluzioni rispetto a queste problematiche in relazione a quelli che sono i vari campi di intervento. E' uno sforzo dell'amministrazione che sta cercando di fare per avere una maggiore capacità di intercettare le problematiche e le proposte che molto spesso pervengono dai cittadini. Si è sempre detto che le amministrazioni devono essere aperte al Paese, alle istanze che pervengono dal Paese e noi stiamo cercando di interpretare questo tipo di azione proprio con la finalità di essere più ricettivi rispetto a quelli che possono essere i contributi che pervengono da parte dei cittadini. E riguardo le critiche sulla selezione dei componenti della commissione? E' chiaro che rispetto all'individuazione delle persone si è cercato di scegliere quello che poteva essere delle persone che ci possono dare un contributo. E' chiaro che sicuramente ci sono delle persone migliori, però oggettivamente adesso c'è bisogno di operare. Vediamo come opereranno. Sono sicuro che oltre al bagaglio di competenze queste persone sono spinte da tanta buona volontà e sono sicuro che i risultati si vedranno.